eccoci qua se non mi crolla il telefono ok ci siamo buonasera a tutti ciao a tutti ragazzi buonasera sono devo dire puntuale sono appena tornata da udine quindi sono un po sfatta e mi sono letta i decreti in treno sia i decreti che la tabella di valutazione la luce che vedete provenire dal basso è quella dell'ipad perché ho i decreti aperti qui così ce li leggiamo con calma adesso aspettiamo un paio di minuti magari in modo che entrino tutti io volevo farla inizialmente su youtube questa diretta ma poi mi sono detta che magari non tutti sono iscritti al canale e quindi per arrivare a più persone possibili la facciamo qui e poi la salveremo quindi non preoccupatevi di chiedermi durante se la potrete rivedere sì potrete rivedere la diretta su youtube e in ogni caso poi insomma questi contenuti sapete che ha piccole pillole ve li riproporrò nei giorni prossimi allora siete d'accordo insomma aspettiamo ancora un minutino poi facciamo una piccola introduzione inerente le principali novità e poi passiamo alla lettura dei punti fondamentali dei decreti in modo da sciogliere più dubbi possibili dopo una prima introduzione vi lascio spazio alle domande ok quindi aspettiamo un attimino intanto saluto tutti sì vi rimetto anche il pdf che ho trovato sul sito edise se ve lo metto nelle storie in evidenza concorsi l'altro giorno mi sono dimenticata per chi non lo sapesse è un file in cui edise se ha predisposto una tabella di corrispondenza tra programmi ministeriali dei concorsi e capitoli dei manuali sì sì la diretta la pubblico su youtube subito dopo ci possono volere dieci minuti insomma ciao a tutti sì ciao elisabetta allora se volete partiamo così insomma vi illustro un pochino quelle che sono le novità inerenti concorsi sapete che ieri 29 novembre c'è stata una una riunione tra ministero e sindacati in cui si è parlato insomma principalmente dei percorsi abilitanti ma di un cambiamento inerente alle tempistiche dei concorsi scuola ora io lo so che il disincanto la fa da padrona e che probabilmente mi manderete a quel paese per quello che sto per dire però la situazione è questa abbiamo sempre detto che l'italia ha fatto un patto con l'unione europea per avere i fondi del cioè o meglio per avere l'ultima tranche dei fondi del pnr e questo patto è fare in modo che vengano assunte 70.000 persone entro il 31 dicembre 2024 per varie ragioni l'italia ha chiesto una proroga che la commissione europea ha concesso questo è stato comunicato ieri per cui c'è un cambiamento nelle tempistiche generali dei concorsi che va da qui fino al 2026 in sostanza ci sono sempre 70.000 assunzioni totali da fare ma ripeto la data 31 dicembre 2024 è stata prorogata dalla commissione europea al 2026 queste 70.000 assunzioni saranno così distribuite nel primo bando quello che stiamo aspettando adesso ci saranno 20.000 assunzioni queste 20.000 assunzioni dovranno essere fatte quindi i docenti dovranno entrare materialmente a scuola immessi in ruolo entro dicembre 2024 dopodiché il secondo concorso sarà invece bandito nell'autunno del 2024 badate bene che bandire un concorso non significa realizzarlo significa che esce un bando il bando deve stare aperto poi si realizzano le prove con questo secondo concorso da bandire nell'autunno 2024 verranno messi a disposizione altri 20.000 posti e siamo a 40.000 e questi altri 20.000 docenti dovranno essere immessi in ruolo entro il settembre del 2025 dopodiché nell'estate del 2025 invece ne verrà bandito un altro di concorso e siamo a tre in cui verranno messi a bando gli ultimi 30.000 posti quindi 20.000, 20.000 e 30.000 e coloro che vinceranno questo ultimo concorso andranno poi ad essere immessi in ruolo nel 2025 quindi questa è la nuova tempistica per cui badate bene che di tutti questi concorsi che vi ho citato adesso si intende sempre concorsi per tutti gli ordini scolastici sempre sia per i posti comuni che per i posti di sostegno per il bando che stiamo aspettando sostanzialmente non cambia nulla ieri sono stati pubblicati decreti e tabella di valutazione dei titoli quindi sapete che questo è ufficialmente l'ultimo passo prima della pubblicazione dei bandi sostanzialmente ci sarà un concorso all'anno vedo che qualcuno di voi lo sta dicendo ci sarà un concorso all'anno e ci sarà la possibilità per un candidato di presentarsi se vuole anche ad ognuno di questi concorsi cioè di tentare tutte le volte avendo i requisiti chiaramente ora qual è il discorso per il bando che stiamo aspettando quello più imminente ok sapete che abbiamo sempre detto novembre entro il mese di novembre ieri è stato detto che verrà bandito entro il 2023 questo vi dico punto i decreti sono usciti ieri tra decreto e pubblicazione del bando sulla carta potrebbero passare anche pochi giorni ok però non lo sappiamo certo è che il ministero non deve più fare niente deve prendere il bando metterci una firma perché ormai è chiaro il regolamento dei concorsi è chiara la struttura delle prove sono chiari i programmi è chiaro tutto cioè ormai non c'è più nulla da da pensare da elaborare da discutere sono sempre dei concorsi per cui e qui vengo al nodo cruciale su cui mi voglio soffermare e ho qui il testo perché adesso lo leggiamo sono sempre concorsi in cui non è prevista preselettiva perché siamo nella fase transitoria benedetta fase transitoria non ci sarà una banca dati ufficiale a disposizione ufficiale cosa significa? che il ministero non metterà a disposizione il gruzzolo di quesiti che poi verranno estratti a sorte per essere somministrati il giorno delle prove ci sono sempre le case editrici che fanno i manuali di esercizi commentati ok per chi è in maternità obbligatoria astensione obbligatoria eccetera eccetera saranno previste presentando ovviamente necessaria documentazione saranno previste delle sessioni suppletive quindi poi insomma per quello sì dobbiamo aspettare il bando perché ci daranno anche i tempi rispetto alla presentazione di queste documentazioni qui allora andiamo a la preselettiva allora la preselettiva non ci sarà ok mi dispiace molto che da questi decreti stia uscendo una cattiva interpretazione con tutte le buone intenzioni cioè nessuno intenzionalmente mette in giro notizie non vere ma è compresa quando mi capita di farlo però credo sia giusto per non seminare panico visto che avere un concorso con una prova scritta e una prova orale avere un concorso con una preselettiva è molto diverso ho qui l'iPad così possiamo leggere chiaramente tutto quanto vi faccio solo una piccola introduzione prima di andare alla lettura i decreti sono usciti in due file diversi in un file vedete quelli di infanzia e primaria che sono classicamente da sempre agglomerati diciamo e nell'altro file vedete quelli per la secondaria questa parte è identica ok allora adesso giro con una certa agilità non sono agile per niente nel fare questa cosa non importa con una certa agilità eccoci qua allora questo è il file sto leggendo dal sito willscuola.it ok vedete l'articolo 4 articolazione del concorso il concorso si articola nella prova scritta di cui all'articolo 6 nella prova orale di cui all'articolo 7 e nella successiva valutazione dei titoli quindi la commissione ha in mano un massimo di 100 punti per la prova scritta un massimo di 100 punti per la prova orale e un massimo di 50 punti per la valutazione dei titoli attenzione al comma 2 ma proprio statemi attenti come il gatto davanti ai crocantini qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 59 comma 10 lettera secondo periodo del decreto legge i bandi di cui all'articolo 13 esplicitano le ragioni della scelta della prova scritta risposta aperta con la possibilità in tal caso di prevedere lo svolgimento di un test di preselezione che precede le prove scritte di cui all'articolo 6 qualora a livello regionale e per ciascuna distinta procedura il numero dei candidati sia superiore a 4 volte il numero dei posti messi a concorso e comunque non inferiore a 250 su queste due righe si stanno fondando tutte le notizie non corrette che circolano in queste ore la questione che se il numero di candidati è superiore a 4 volte il numero dei posti messi a concorso e comunque non inferiore a 250 si fa alla preselettiva c'è scritta ok e qui nero su bianco ve l'ho appena letta ma attenzione qual è la premessa qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 59 comma 10 lettera A secondo periodo del decreto legge i bandi esplicitano le ragioni della scelta di una prova scritta risposta aperta i concorsi che noi andremo a fare per tutta la fase transitoria quindi fino al 31 dicembre 2024 avranno quesiti a risposta scelta multipla e un ulteriore chiarimento lo troviamo poi all'articolo 5 ok che dice a ricorrere delle condizioni di cui è l'articolo 4 comma 2 e nel caso in cui l'amministrazione si avvalga della facoltà prevista dal medesimo comma ai fini dell'ammissione alle prove scritte i candidati superano una prova di preselezione computer based ok eccolo qua aspettate che ci metto il dito sopra ok qual è è la chiave di volta di tutta questa situazione è questa qui articolo 59 comma 10 lettera secondo periodo secondo periodo cosa vuol dire dopo la fase transitoria quindi nella fase transitoria comma 1 il concorso si articola nella prova scritta di cui all'articolo 6 e nella prova orale e successiva valutazione dei titoli nel secondo periodo qualora si passasse a prova scritta a risposta aperta e qualora ci fosse un numero dei candidati superiore a quattro volte il numero di posti messi a concorso non inferiore a 250 ci sarà preselettiva ma nel secondo periodo vale a dire dopo il 31 dicembre 2024 ok qui sto parlando ovviamente di preselettive per per il concorso non per i percorsi abilitanti io spero che questa questione della preselettiva sia chiara ok quindi per ricapitolare la preselettiva non ci sarà fino al 31 dicembre 2024 dopo il 31 dicembre 2024 se si passerà a delle prove scritte a risposta aperta e se i candidati saranno di quattro volte ma la bottiglia ha fatto un botto se i candidati saranno di quattro volte maggiori ai posti disponibili comunque non superiore a 250 l'amministrazione potrà prevedere una preselettiva ma al momento non ce ne dobbiamo preoccupare ok no non ci sono preselettive spero di essere stata chiara ma sei certa secondo periodo non indichi la seconda frase del comma no 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 non ci sarà preselettiva cioè è proprio è molto chiaro la prova scritta sarà risposta multipla con domande a quattro alternative quindi a b c d provate a dare la risposta proveremo tutti a dare la risposta perché tanto o risposta errata o risposta non data vale sempre zero punti quindi non tolgono punti per ogni errore tanto vale provare quindi questo è uno dei dei punti cardide su cui mi volevo soffermare stasera e spero che sia chiaro per cui per esserci la preselettiva devono verificarsi due condizioni condizione numero uno essere nel periodo successivo al 31 dicembre 2024 quindi c'è possibilità di preselettiva solo dal primo gennaio 2025 in poi seconda condizione per cui l'amministrazione valuti una preselettiva è che dal primo gennaio 2025 in poi debbano esserci un numero di candidati di quattro volte superiori rispetto al numero dei posti messi a panto ok andiamo avanti per quanto riguarda la tabella di valutazione dei titoli volevo chiarire due punti principali valutazione dei titoli per quanto riguarda il titolo di accesso e i titoli culturali dobbiamo distinguere il titolo di accesso è il titolo che ti permette di fare il concorso ok quindi il titolo di accesso ha un certo peso ha un certo valore tutti gli altri titoli ovviamente se rientrano in quelli contenuti nella tabella perché alcuni non possono essere valutati adesso lo vediamo possono raggiungere un massimo di 50 punti che si vanno a sommare a quelli ottenuti dal candidato nelle prove ovviamente la valutazione dei titoli è l'ultimo step quindi se io faccio una prova scritta insufficiente vi ricordo che la sufficienza alla prova scritta si ottiene con 70 punti vale a dire con 35 risposte corrette su 50 se io faccio una prova scritta insufficiente ma ho un sacco di titoli valutabili non posso essere aiutata dai titoli perché le prove devono essere comunque sufficienti ok spero di essere chiara dopodiché cosa viene valutato vengono valutati sia i titoli che alcune certificazioni e anche i servizi anni di servizio allora le supplenze brevi non vengono valutate ai fini del concorso nel senso che anno di servizio si intende l'annualità completa e l'annualità per essere valutata deve essere conclusa alla scadenza del bando per annualità di servizio completa si intende 166 giorni ok quindi quando voi mi chiedete ma quindi l'anno in corso lo valutano o non lo valutano l'anno in corso è valutabile se quando scadrà il bando saranno trascorsi almeno 166 giorni dall'inizio dell'anno scolastico corrente quindi io adesso non ve lo so adesso come adesso non sono passati ancora 166 giorni quindi se vi rispondo adesso io vi dico no l'anno in corso non vale ma perché 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 non abbiamo ancora raggiunto il range di giorni che fa valere un'annualità di servizio ok ovviamente vale il servizio nelle paritarie per quanto riguarda il riconoscimento dei titoli ogni annualità di servizio vale due punti ma il servizio vale soltanto se specifico quindi servizio specifico significa che io devo averlo prestato per lo stesso ordine scolastico e per la stessa classe di concorso per cui sto concorrendo dopodiché devo ovviamente far valutare soltanto soltanto i servizi che io presto quando ho il titolo che mi permette di prestarli l'esempio classico è che gli studenti di formazione primaria cioè i laureati di formazione primaria non possono accedere al concorso e farsi valutare dei servizi che hanno fatto mentre erano studenti perché il servizio prestato da da studente quindi da persona che non ha il titolo non ha valore giuridico per un concorso considerate che in generale la tabella di attribuzione dei titoli per i concorsi è diversa da quella delle gps alcune cose vengono valutate in maniera diversa per esempio le certificazioni informatiche non hanno validità non sono dei titoli valutabili non sono messi proprio in in tabella per quanto riguarda le certificazioni d'inglese non vale il B2 le certificazioni d'inglese vengono riconosciute soltanto dal C1 in su considerate che poi se voi fate valutare una certificazione linguistica soprattutto in fase di prova orale i commissari lo vedono quindi se un commissario alla prova orale vede che io ho un C1 d'inglese cosa che non è sto facendo un esempio ovviamente mi fa delle domande e si aspetta che io possa sostenere quel livello perché i titoli valutabili io li devo andare a dichiarare quando mi iscrivo al concorso e qui rispondo ad un'altra domanda cioè ma io posso per esempio se mi iscrivo al concorso domani e poi la certificazione la prendo tra un mese e poi il concorso lo faccio a marzo dico delle date a caso poi posso mettere la certificazione che faccio a marzo perché a marzo non ho ancora sostenuto le prove no tutti i titoli valutabili e anche i titoli di accesso devono essere posseduti entro la scadenza del bando considerate che il bando apre sta aperto per 30 giorni quindi quello è l'arco di tempo massimo che io ho dal primo all'ultimo giorno di apertura delle iscrizioni diciamo così quindi apertura del bando consideratela come apertura delle iscrizioni dal primo all'ultimo giorno di apertura delle iscrizioni io ho tempo fino all'ultimo giorno e molto spesso indicano anche l'ora precisa fino a quel giorno lì io ho tempo di conseguire lauree speciali tutto quello che volete caricare dentro al concorso dal giorno dopo l'iscrizione i titoli che acquisisco non mi permettono più l'accesso non mi permettono più di avere punteggio aggiuntivo altra cosa la lode nella valutazione dei punteggi di laurea non vale niente cioè non aggiunge niente delle certificazioni informatiche ve l'ho detto il B2 d'inglese non è valutabile per quanto riguarda il concorso tra concorso e GPS ve l'ho detto soprattutto nella valutazione dei titoli e anche dei servizi ci sono delle differenze per cui adesso focalizziamoci sul concorso senza fare confronti con le GPS perché altrimenti si fa tantissima confusione e andiamo a impelagarci in un discorso che non finisce più per cui sostanzialmente il discorso è molto lineare servizio prestato specifico anche nelle paritarie sì purché sia prestato da persone che sono in possesso del titolo detto questo ok sapete che c'è appunto un massimo di 50 punti di titoli valutabili per cui come io ho detto prima la commissione ha a disposizione totali 250 punti 100 punti se fai tutto corretto alla prova scritta 100 punti se diciamo hai una prova orale brillantissima e 50 punti al massimo di valutazione dei titoli per quanto riguarda i TFA conseguiti all'estero vi dico anche questo i TFA conseguiti all'estero anche se non sono ancora stati riconosciuti sono ammessi al concorso sostegno con riserva è l'unica riserva concessa per questi concorsi quindi poi queste persone diciamo si iscrivono al concorso eseguono le varie prove con riserva in mora quindi se poi insomma il titolo dovesse essere riconosciuto dal ministero perfetto se invece il titolo non dovesse essere riconosciuto perché sapete che i titoli esteri vengono sottoposti a valutazione il candidato insomma viene escluso in qualche maniera dopodiché faccio anche un piegolo appunto per quanto riguarda la graduatoria di merito ma proprio a livello di nome perché si chiama graduatoria di merito e questa cosa genera un po' di confusione perché tutti i concorsi hanno una graduatoria di merito si chiama graduatoria di merito cioè tutte le persone che superano con la sufficienza la prova scritta e superano con la sufficienza la prova orale vengono immesse in una graduatoria che si chiama di merito solo che poi quelli che prendono il posto diciamo nel caso di questi concorsi qui saranno i soli vincitori quindi le persone che corrispondono ai posti messi a disposizione ci sono cento posti prendono il posto i primi cento che vengono considerati quindi vincitori tutti gli altri quindi dal centunesimo in poi sono nella graduatoria di merito non come vincitori ma come idonei il ruolo lo prendono solo i vincitori perché il regolamento di questi concorsi che è scritto nero su bianco nel file che vi dicevo prima dice questo però dice anche che la graduatoria di merito può avere degli scorrimenti perché poniamo sempre il caso che ci siano cento posti disponibili e quindi vincono i primi cento classificati i primi cento col punteggio più alto se uno di quei cento rinuncia al ruolo perché il ruolo non è una pistola puntata se uno di quei cento rinuncia al ruolo si slitta la graduatoria ok quindi lo slittamento è sempre previsto ovviamente quante rinunce ci sono non lo so dipende dipende perché poi una persona scopre dove viene mandata fa tanti ragionamenti insomma poi quello è un discorso soggettivo che se vogliamo esula un po' da questa questione sto cercando di ricordarmi tutto quello che potrei dirvi che potrebbe rispondere a domande in maniera da evitarvi di poi arrovellarvi su delle questioni però per il momento non mi viene in mente altro ah sì una domanda che mi ha posto una ragazza stamattina il il potenziamento la cattedra di potenziamento vale al non sto leggendo le domande Francesca in questo momento non le sto leggendo di nessuno la cattedra di potenziamento vale come posto comune ok che voi siate poi messi sul posto comune scusate sul potenziamento non non importa cioè il vostro contratto è come insegnanti di posto comune questa era una piccola specifica che volevo fare adesso sì torno indietro e mi guardo le domande per quanto riguarda i libri di testo ve lo dico già ho fatto diversi reel i giorni scorsi non occupiamocene adesso allora Caterina dice mi confermi che essere o non essere in GPS comporta il poter partecipare non comporta il poter partecipare al concorso non c'è nessun legame proprio nessuno tra GPS e concorsi di nessun tipo a me è venuto giusto il dubbio delle certificazioni linguistiche C1 C2 io ho lottato per avere un B2 non vorrei che questa sia una nuova una novità precursoria per le GPS no per i concorsi è sempre stato così il B2 non è non è valutabile non vuol dire che si influenzeranno le GPS da quel punto di vista si possono inserire le certificazioni linguistiche dopo essere fatta la prova scritta a questo ho risposto no allora riservisti per chi possiede la 104 il possesso della 104 e di altri tipi di riserve deve essere sempre dichiarato in fase di iscrizione come anche eventuali disturbi specifici dell'apprendimento eventuali disabilità che danno diritto in fase di prova scritta a degli strumenti compensativi e o a punteggio scusate no a punteggio a tempo aggiuntivo allora il punteggio del voto di laurea deve essere convertito in centesimi cioè la tabella nella tabella di valutazione dei titoli ci sono tutte le operazioni che dovete fare per convertire il punteggio del voto di laurea per chi ha anche la prova pratica la prova pratica per le classi di concorso che la prevedono rientra nella prova orale allora quindi per le classi di concorso in lingua straniera tutte le domande della prova scritta saranno in lingua allora Marco io sono stata la prima a dare diciamo questo allarme e me ne pento molto nel senso che l'ho dato sulla base del fatto che è stato detto da un sindacalista in una diretta di tecnica della scuola però questa cosa non trova riscontro da nessuna parte né tanto meno nei regolamenti che sono usciti questa cosa è stata detta prima della pubblicazione dei regolamenti chiaramente quindi mi trovo a risponderti che non sarà così quindi tutte le prove di tutte le classi di concorso saranno prevederanno delle domande in italiano ad esclusione ovviamente delle già previste cinque domande di inglese corrispondenti al livello B2 gli anni di servizio sostenga non sono validi come punteggio sul posto comune perché vogliono la specificità sia del grado che della classe di concorso in caso di vincita il concorso come avviene l'assegnazione della scuola dove lavorare si va per step prima si sceglie la provincia prima si esprimono delle preferenze per la provincia poi si esprimono delle preferenze per le scuole però di base il concorso si fa a livello regionale per cui si potrebbe finire dappertutto nella regione perché poi sono preferenze e non è detto che vengano accordate ci saranno ancora dei posti con riserva sì perché ha tre anni di servizio sì 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 allora c'è anche legislazione a questa cosa della legislazione io ve la ripeto di nuovo la legislazione è inclusa nei programmi ministeriali dalla costituzione ai documenti europei ce n'è tanta di legislazione quindi anche se nella struttura della prova scritta come si legge all'articolo 6 che riguarda proprio la prova scritta non leggerete domande relative alla legislazione scolastica ma il ministero ce l'ha messa la legislazione nei programmi relativi alla prova scritta questo significa che potranno esserci delle domande che hanno dei rimandi alla legislazione quindi la legislazione va studiata punto ma tanto comunque sarebbe stata da studiare per l'orale quindi mettiamocela via serenamente per quanto riguarda l'anno in corso l'ho spiegato un anno è valido se se dalla presa di servizio sono trascorsi almeno 166 giorni quindi se entro la data di scadenza del bando saranno passati 166 giorni dalla tua presa di servizio potrai far valere quest'anno altrimenti no sì la diretta verrà salvata su youtube per quanto riguarda lo slittamento tutto quello che si sa è quello che ho detto all'inizio non so altro per alcune classi di concorso delle secondarie sì è prevista la prova pratica all'interno della prova orale non conosco corsi di preparazione al concorso né online né in presenza quindi non ve ne posso consigliare ma se avete voi dei feedback ditemelo volentieri tra chiusura e prova scritta quanto potrebbe passare come tempo è molto 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 difficile da prevedere vi posso solo dire che devono avvisarci della data delle prove scritte minimo 15 giorni prima che queste avvengano però tutto il resto non so dire assolutamente niente posso partecipare al concorso per primaria e infanzia nello stesso concorso sì sosterrai un'unica prova le prese elettive per i percorsi abilitanti saranno più avvantaggiate a passare queste prese elettive coloro che hanno già una certa esperienza rispetto a chi ancora studente che ne pensi non lo so ma non ha senso porsi questa domanda perché non sappiamo ancora nulla delle prese elettive dei percorsi abilitanti bisognerà avere i 60 CFU per partecipare ai concorsi della fase post cioè bisognerà avere i 60 CFU per partecipare ai concorsi dal primo gennaio 2025 in poi il primo concorso del 2023 non è quello di motoria sì diciamo che educazione motoria la scuola primaria viene un po' escluso da questa da questo agglomerato di concorsi annuali che ci saranno di cui vi ho parlato sì ci saranno dei posti riservati l'ho già detto per quanto riguarda i tempi dei concorsi ne ho parlato all'inizio poi andate a rivedere la diretta quindi lo slittamento dello slittamento ho già parlato adesso della conversione dei voti in questo momento non ho sotto mano la tabella quindi andatevi a vedere ci sono proprio i calcoli da fare avendo abilitazione sia per infanzia sia primaria posso partecipare a tutte e due sì certo il concorso sarà per le classi di concorso che verranno indicate nel bando c'è la possibilità che la graduatoria possa in futuro comprendere gli idonei o rimarrà di soli vincitori no almeno fino al 31 dicembre 2024 la regola è che valgono cioè il posto lo prendono solo i vincitori per quanto riguarda la domanda specifica sulla maternità facoltativa in questo momento non so risponderti devo informarmi si può partecipare per primaria infanzia allo stesso tempo sì quindi siccome partecipi per due procedure pagherai due volte le indicazioni nazionali per il concorso primaria vanno studiate anche per il concorso infanzia no perché uno scritto e due orali no no per le secondarie come per tutti gli altri ordini uno scritto e un orale solo che all'interno dell'orale è prevista anche la prova pratica per primaria e infanzia ci sarà un'unica prova tu farai una prova unica che ti varrà sia per infanzia che per primaria e anche le secondarie a prescindere dal grado avranno un'unica prova e questo vale anche per il sostengo non sarà differenziata la prova scritta perché prevede delle conoscenze trasversali non è uscito ancora il bando il primo concorso che uscirà il primo avrà tutti i requisiti di cui abbiamo parlato un miliardo di volte per quanto riguarda le secondarie per il primo concorso siccome i percorsi abilitanti non sono ancora partiti è impossibile che qualcuno li abbia ma dal prossimo quindi quello che con la nuova tempistica diciamo è previsto da bandire nell'autunno del 2024 potranno poi partecipare coloro i quali nel frattempo avranno conseguito i CFU abilitanti no allora i giorni di servizio da accumulare sono 166 non 180 possono essere calcolati sommando più periodi di lavoro svolti in anni scolastici differenti no devono essere anche non continuativi ma sempre nello stesso anno scolastico cioè tu non puoi comporti le annualità prendendo due mesi da un anno o due mesi dall'altro no per questo vi dico che le supplenze brevi non sono valutabili nei concorsi come mai c'è scritto nel decreto che la graduatoria vale due anni dove lo hai letto Giulia così lo andiamo a pescare se si è vincitore di concorso per insegnare bisogna prima partecipare quindi ottenere i corsi abilitanti allora se sei vincitore e hai avuto accesso al concorso senza abilitazione il concorso non ti abilita quindi dovrai poi sostenere i tuoi CFU abilitanti di questo ne abbiamo parlato tante volte i concorsi non sono abilitanti quindi se tu non accedi già con una con un'abilitazione presa prima dovrai poi provvedere e compensare la cosa se partecipo sia per infanzia che per primaria è un solo scritto sì conviene fare sia infanzia sia primaria dipende da te dipende se ti conviene per i posti che sono disponibili nella regione che sceglierai non lo so sì due orali eventualmente per entrare nelle GPS bisogna aspettare la fine del terzo anno sì ma adesso non parliamo di questa cosa beh conviene partecipare per entrambi gli ordini non lo so questo è un ragionamento che devi fare tu puoi partecipare Caterina ad una classe di concorso per grado per quanto riguarda le secondarie chi ha due classi di concorso può partecipare per entrambe dipende perché puoi partecipare ad una classe di concorso per grado le indicazioni nazionali sì anche quelle che riguardano l'infanzia quindi anche i campi di esperienza e tutto quanto perché la prova è unica i ragazzi sì i concorsi saranno tutti ordinari li hanno chiamati straordinari straordinario ter quello che mi pare dal punto di vista come vi posso dire neanche divulgativo è un nome che è più di marketing straordinario ter sono tutti concorsi ordinari sono tutti concorsi ordinari si chiamano straordinari solo perché avvengono nella fase transitoria che di per sé è una fase straordinaria perché l'abbiamo fatto tante volte questo discorso ma sono concorsi ordinari non c'è niente di straordinario se ho fatto più supplenze brevi nello stesso anno scolastico su stessa classe di concorso sì su stessa classe di concorso e su stesso grado sì se sono nella stessa annualità li puoi sommare per arrivare ai 166 ovviamente se eri in possesso del titolo concorso ITP DTP possono partecipare fino al 31 dicembre 2024 ai concorsi con il solo diploma sì anche per il sostegno ci saranno le domande in lingua inglese certo sempre 5 no non puoi inserire il punteggio di due anni servizio su sostegno se concorri per il posto comune per quanto riguarda i manuali ragazzi ho fatto un reel due giorni fa sì no ieri no due giorni fa se sto frequentando la magistrale posso frequentare i percorsi abilitanti da 60 CFU devi avere mi pare già 150 o 180 CFU perdonami in questo momento esattamente non ricordo sì puoi partecipare per una classe di concorso e per il sostegno partecipare al concorso ci darà punteggio in GPS o graduatoria di istituto questo ancora non lo sappiamo però eventualmente la sola partecipazione no se lo vinci sì o se sei idoneo quindi se superi le prove con punteggio sufficiente eventualmente non lo sappiamo ancora però la sola partecipazione è escluso che dia punteggio eventualmente darà punteggio essere o vincitori o idonei allora partecipare a due classi di concorso per grado per la secondaria non si può non si può devi scegliere una classe di concorso cioè puoi sempre partecipare alla classe di concorso comune e al sostegno ma a due classi di concorso comuni per grado non puoi io posso fare il concorso anche se mi laureo a luglio magari con riserva no l'ho detto all'inizio non sono previste riserve per quanto riguarda la laurea le lauree per quanto riguarda chi sta svolgendo il tfa in questo momento devi farti valutare puoi farti valutare soltanto il servizio che hai prestato esattamente per lo stesso grado e per la stessa classe di concorso per cui concorri quindi se io concorro per il posto comune primaria non posso farmi valutare i servizi che ho fatto come sostegno primaria perché la classe di concorso è diversa anche se l'ordine è lo stesso posso concorrere per A12 e A22 se sono per gradi diversi sì però adesso perdonami non mi ricordo la corrispondenza delle classi di concorso sono un ITP ho 24 CFU posso fare questo concorso e il corso per i 36 sì sì lo puoi fare se ho due anni di servizio all'infanzia e alla primaria mi valgono come punti se hai fatto se hai svolto il servizio in possesso del titolo e l'anno alla primaria lo puoi caricare se fai il concorso alla primaria se l'hai fatto sul posto comune l'anno dell'infanzia lo puoi caricare sul concorso infanzia ok adesso senza leggere tutte le casistiche generali le indicazioni che vi ho dato poi magari riguardatevi la diretta cercate di trasrarle sul vostro caso particolare per quanto riguarda i tempi della prova adesso sinceramente ieri è stato detto questo primo bando uscirà entro il 2023 rimanendo saldi ai tempi che abbiamo cioè alle notizie che sappiamo perché sono scritte nero su bianco l'indicazione in questo momento ce la dà l'interpello che il ministero ha fatto alle università perché il ministero ha chiesto agli atenei che volessero candidarsi per elaborare i quesiti delle prove scritte di presentarle entro 30 giorni per cui tutto dicembre se ne va poi questi quesiti dovranno essere raccolti validati e probabilmente se ne andrà anche tutto gennaio e quindi questi sono i tempi per avere materialmente le domande dopodiché bisognerà capire nel frattempo quando questo bando uscirà perché poi pure il bando ha bisogno dei suoi tempi deve stare aperto 30 giorni e dopodiché bisognerà organizzare le prove scritte e aspettare il calendario si si arriva a febbraio molto probabilmente si arriva a febbraio farti valutare da chi prof viti intendo che quando tu ti iscrivi al concorso ti viene chiesto titolo d'accesso cioè quale titolo hai per accedere al concorso il titolo d'accesso ovviamente deve rientrare in uno dei requisiti di partecipazione dopodiché c'è proprio la sezione titoli culturali si chiama in cui ti dicono quali altri titoli hai hai altre lauree hai certificazioni linguistiche di inglese superiori al c1 hai fatto master hai fatto altre cose te le valutiamo farti valutare in senso astratto tu le carichi sulla piattaforma all'atto dell'iscrizione e poi se le tue prove risultano sufficienti sia lo scritto che l'orale la terza fase è la valutazione dei titoli sì per la secondaria potrei partecipare per inglese alle medie e spagnolo alle superiori le certificazioni informatiche non sono valutabili scusate probabilmente sono indietro sono molto indietro con le domande rispetto a quelle che state mandando in real time le certificazioni informatiche non fanno punteggio la diretta si verrà salvata tra la prova scritta e la prova orale molto difficile capirlo quanto tempo passa perché la prova scritta è gestita a livello ministeriale poi le prove orali sono gestite a livello regionale ed è lì che comincia la tarantella vera e propria perché poi le commissioni per fare la prova orale il ministero non fissa dei termini per cui le regioni vanno ognuna per conto proprio e non è in questo momento prevedibile quanto tempo possa passare tra la prova scritta del concorso e la prova orale potrebbero passare 15 giorni come potrebbero passare 3 mesi quale concorso slitterà settembre 2024 adesso per non confondere ulteriormente le idee intanto vi dico che nei primi tre minuti di questa diretta ho parlato della nuova distribuzione delle tempistiche comunque adesso il primo bando si attende entro fine 2023 il secondo nell'autunno del 2024 in sostanza ce ne sarà uno all'anno le prove siccome il primo concorso quello che noi attendiamo entro il 2023 prevede l'immissione in ruolo sostanzialmente a settembre 2024 è difficile fare delle prove a luglio agosto perché per immettere in ruolo a settembre 2024 tu a farla grande a maggio devi aver già concluso tutto ok qual è il bando dell'autunno 2024 il secondo sì per la secondaria di secondo grado puoi partecipare a posto comune e posto di sostegno contemporaneamente sì si può sempre partecipare a posto comune e posto di sostegno contemporaneamente quello che non puoi fare è partecipare per lo stesso grado a due classi di concorso comuni sull'orale verterà solo sulla traccia pescata o ci sarà un'altra da pescare a cui bisogna rispondere istantaneamente allora tu peschi la tua traccia 24 ore prima ti prepari la tua lezione simulata poi ovviamente vai la esponi e lì ti fanno domande lì istantaneamente devi rispondere ma non perché estrai perché hai i commissiari davanti per quanto riguarda le emissioni e il ruolo da gps sostegno non sappiamo ancora niente allora basta mi sa che ho risposto sostanzialmente siamo sotto meno di un'ora di diretta per la classe di concorso sostegno si può partecipare senza TFA no 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 sono previsti Mary Lou 67 diversi concorsi il primo da bandire entro fine 2023 il secondo da bandire nell'autunno del 2024 il terzo da bandire aspettate che se non sbaglio nell'estate del 2025 ok servizio svolto da mad solo se l'avete svolto mentre eravate in possesso del titolo lo scritto avrà una data nazionale unica ci sarà uno scritto per infanzia e primaria quindi ci sarà una data nazionale unica per infanzia e primaria e una data nazionale unica per le secondarie a prescindere se concorrete per la classe comune o per il sostegno tutte le domande della prova scritta saranno in italiano ad eccezione delle cinque domande previste in inglese si possono caricare più certificazioni linguistiche nel caso dell'inglese vale soltanto la certificazione dal C1 in poi non c'è nessuna riserva e nessun punteggio aggiuntivo per chi ha svolto il servizio civile sì sono tutti ordinari non chiamatelo straordinario fatelo per le mie coronarie una volta assunto l'unico vincitore del prossimo concorso previsto per la mia regione da quale graduatori attingeranno per assumere il ruolo ordinario 2020 dipende da quali graduatori residui ci sono hanno all'estero una scuola paritaria italiana riconosciuta miur non credo che faccia punteggio però devo andare a leggere bene la tabella di valutazione dei titoli perché la tabella di valutazione dice tutte le scuole del sistema nazionale di istruzione quindi nazionale presumo che non valga la scuola all'estero la data l'iscrizione si paga online quando uscirà il bando quindi apriranno le iscrizioni aprirà anche la piattaforma e si potrà pagare online e non perdete la ricevuta di pagamento cioè pagate digitalmente così non si perde nulla allora sì sì puoi partecipare sia per infanzia che per primaria sono prove differenziate no state ripetendo diverse domande a cui ho già risposto no non possiamo iscriverci perché deve uscire il bando ricordatevi che uscita del bando vuol dire vuol dire apertura delle iscrizioni non hai risposto alla mia materia alla mia domanda su materia alternativa non ti arrabbiare cosa mi hai chiesto su materia alternativa perdonami la prova per infanze primarie è la stessa sì se mi hai chiesto forse su materia alternativa se vale come posto comune alternativa alla religione mi pare di no chi concorre per la classe di concorso di lingue svolgerà la prova scritta in italiano contrariamente a quanto era stato detto in precedenza sì tutte le prove saranno in italiano ad esclusione dalle cinque domande previste in inglese tutti i concorsi che usciranno saranno per tutti gli ordini di tutti i gradi marica cosa mi hai chiesto perché andare a recuperare ah ok marica eccola qua in base a cosa scegliere la regione in cui inserirsi e se poi volessi abilitarmi ma nella regione non attivano il corso per la mia classe di concorso eh allora considera che la regione che scegli poi è la regione in cui devi andare a lavorare quindi quanto sei disposta a spostarti per quanto riguarda i corsi abilitanti se nella tua regione non attivano quelli che ti interessano l'unica alternativa è spostarti si svolgeranno le prove all'interno della regione che tu hai scelto non è detto che sia nel capoluogo non è detto che sia vicino casa io conosco persone che per fare la prova scritta sono state mandate a 400 chilometri da casa e per la prova orale a 200 chilometri hanno dovuto pernottare fuori la distribuzione purtroppo dei candidati nelle varie aule informatica per quanto riguarda la prova scritta e nelle varie sedi per quanto riguarda la prova orale non è fatta con una razio del tipo che ne so mando il candidato nel giro di 100 chilometri da casa ok a volte fanno tipo i candidati dalla A alla L fanno in ordine alfabetico no dalla A alla L li mandiamo lì dalla ok quindi spesso ci si deve spostare di tanti chilometri si deve pernottare fuori diventa ovviamente anche una spesa calcolate anche che la regione che scegliete per sostenere il concorso è quella dove dovrete andare a svolgere le prove ok il primo concorso atteso entro 2023 ragazzi sarà per tutti gli ordini gradi sia per il posto comune che per il posto di sostegno lo sto ripetendo da mesi ecco sono siciliana ma lavoro in trentino perfetto ho scritto primaria sostegno sarà lo stesso giorno di primaria sì c'è un'unica prova primaria infanzia unica posto comune sostegno non importa è un'unica prova per le secondarie posto comune sostegno non importa per quanto riguarda l'orale onestamente mi sembra che infanzia e primaria abbiano orali separati ma non ci giurerei in questo momento se rinuncio all'incarico dopo aver vinto il concorso posso andare avanti con le gps certo certo il ruolo non è mai una pistola puntata se ti mandano in un posto in cui tu non sei più per qualsiasi motivo disposto ad andare tu rinunci e nel tuo posto va il candidato successivo sicuramente i candidati non mancano quindi no adesso scherzo allora per quanto riguarda la partecipazione alle prove qualora si dovessero svolgere durante il corso dell'anno scolastico noi abbiamo dei giorni che possiamo chiedere per partecipazione a concorsi quindi chiediamo tranquillamente posso partecipare a primaria e primaria sostegno se sei sia se ne hai titolo abilitante e specializzazione assolutamente sì ragazzi io vi saluto vi ringrazio di aver seguito questa diretta contate un quarto d'ora venti minuti la trovate su youtube se rinunci al concorso potrai partecipare ad altri concorsi in seguito sì sarà più difficile dell'ultimo ordinario io credo che ci saranno meno posti dell'ultimo ordinario sarà più difficile a livello di domande adesso sinceramente non lo so allora vi ringrazio vi ripeto questa diretta sarà su youtube quindi se mi date insomma il tempo tecnico di salvarla e caricarla vi ricordo anche di iscrivervi al canale youtube perché così mi supportate e se passo lo scritto sia per infanzia che per primaria posso scegliere la classe di concorso sì ovviamente se voi partecipate a più procedure e le vincete tutte va da sé che poi a un certo punto dovete scegliere cioè a un certo punto una scelta la dovete fare non è che potete vincere il ruolo in tre classi di concorso diverse potete partecipare per tutte quelle a cui avete insomma titolo di accedere ma poi una scelta va fatta sei arrivata ora Anna nei primissimi minuti della diretta ho parlato di tutte le tempistiche quindi adesso la carico su youtube e poi puoi andartela a vedere tranquillamente buona serata a tutti e grazie mille ciao a tutti i